Ciao io sono Luca di approccialla.it e in questo video parleremo di come non bruciarti le possibilità con una ragazza. Per iniziale ti ricordo che hai riaperto il videocorso Traduttore Donna-Uomo, videocorso avanzato sulla psicologia femminile che ti permette di tradurre il complicato linguaggio delle donne, cogliere il massimo ad ogni occasione e avere una valanga di ragazze che fanno la fila per venire a letto con te. Dal 23 al 30 marzo 2022 è acquistabile a un prezzo più basso, poi dopo il 30 marzo, ovvero il giorno in cui esce questo video, quindi magari sbrigarsi, dopo il 30 marzo aumenta il prezzo. Per chi ha già acquistato in passato almeno uno degli altri miei videocorsi può acquistare il Traduttore Donna-Uomo a 100 euro in meno rispetto al prezzo ufficiale. Tutte le info sono sul sito www.approccialla.it o cliccando su primo link in descrizione. Per chi ha queste domande o dubbi ci sono i contatti del mio team in descrizione per fare le domande. Quindi parliamo appunto di come si fa a non bruciarsi le occasioni, di come si fa a non bruciarsi le possibilità con una ragazza, quindi in generale una ragazza che la conosci di giorno, che la conosci in discoteca, che la conosci dalle app di incontri online, che la conosci da situazioni da circolo sociale, quindi amici, amiche, colleghi di lavoro, eccetera. Quindi bisogna capire che il modo per non bruciarsi le possibilità è non perdersi le occasioni. Nel momento in cui tu ti perdi occasioni durante una conoscenza con una ragazza, la ragazza perde interesse. Conseguentemente al fatto, per esempio, che tu ti puoi perdere occasioni per diversi motivi, per mancanza di coraggio, per mancanza di capenza della situazione, non so se esista come parola, per mancanza di capire la situazione, quindi di conseguenza dimostri alla ragazza non intelligenza sociale. Quindi appunto l'opposto dell'intelligenza sociale è la stupidità sociale. Quindi le dimostri che non capisci la situazione. Quindi magari una ragazza, per esempio, non lo so, era pronta per essere baciata, tu ti perdi l'occasione, pure magari con la chat, magari la ragazza era pronta per essere invitata per l'appuntento. Trenta messaggi fa tu continui a cazzeggiare, a perdere tempo, dimostri alla ragazza che non capisce la situazione. E dopo un po' la ragazza perde interesse, perché appunto l'intelligenza sociale crea attrazione in una ragazza, quindi dimostrarle l'opposto, fa scendere interesse alla ragazza. Quindi in realtà mi sono segnato una serie di esempi che magari li vediamo adesso tra un attimo, anzi li vediamo adesso subito. Quindi nel momento in cui temporeggi con una ragazza, devi ricordarti che lei si stufa. Quindi se temporeggi in diverse fasi di interazione, potrebbe essere che stai temporeggiando, perché magari l'hai conosciuta, da una situazione di amici in comune, e nelle situazioni da circolo sociale hai più margine di errore. Quindi in realtà ti ha anche permesso, in realtà, tra virgolette, di perdere tempo con una ragazza. Però dopo un po' anche le ragazze nella cerchia sociale si stufano, se effettivamente non si arriva al dunque dopo un po'. Ricordo amici in passato, ancora quando ero proprio agli inizi, mi stavo, forse ancora dei tuoi tempi non mi interessavo neanche al mondo di miglioramento sentimentale, c'erano dei miei amici, uno si era fidanzato, lui diceva di essere fidanzato, ma non era veramente fidanzato perché non era mai stato letto con la ragazza in questione, si vedevano tipo 5 volte a settimana, sono andati diverse volte a casa di lui, non hanno mai fatto niente. Dopo un po', giustamente la ragazza si è rotta e coglioni, basta. Dopo un po' ha smesso di frequentarlo, perché il non farci mai niente, dopo un po', siccome anche la ragazza vuole arrivare al dunque, le stanno dimostrando mancanza di sicurezza, mancanza di capire la situazione, e quindi la ragazza perde interesse. Oppure il temporeggiare, soprattutto negli approcci per esempio a freddo, quindi che siano di giorno, che siano in discoteca, che siano online, e tante volte, non tanto tante volte, prende sempre, non c'è la seconda occasione. Se avevi la possibilità di portartela a letto al primo appuntento e ti perdi l'occasione, tante volte non c'è la seconda possibilità. Se avevi la possibilità, magari, mettiamo che non era il primo appuntento, magari al primo appuntento era possibile soltanto baciarla, e al secondo appuntento però già avevi l'occasione di portartela a letto, e poi già, non ci dirughiamo qua su tutte le varie cose che ci sono nell'inconscio delle persone, non ci dirughiamo qua su questa cosa, perché mi sta venendo in mente una digressione, avrebbe preso tipo dieci minuti. Comunque, magari te la potevi portare al tuo secondo appuntento, perdi l'occasione, ovviamente la ragazza non ti vuole più rivedere. Quindi nel momento in cui ti perdi occasioni, le possibilità si bruciano, mi ricordo la prima insieme alla ragazza con cui sono uscito in vita mia, ci ho arrivato al bacio al primo appuntento, al secondo appuntento era venuta per scopare, ovviamente non te lo può dire, nel momento in cui fai esperienza, studi effettivamente le dinamiche fra uomo e donna, la psicologia femminile, capisci poi bene effettivamente una ragazza, una ragazza che viene da appuntento, è interessata soprattutto, come i tempi che l'avevo conosciuta a Milano, però lei viveva a Brescia, e si faceva tre volte in treno da Brescia fino a Milano, però era da appuntento, ci avevo già fatto il bacio al primo appuntento, era venuta al secondo appuntento, super vestita elegantissima, era il mio primo secondo appuntento, appuntento che facevo in vita mia, e me lo sono bruciato ovviamente, quindi quando si è agli inizi, non è la minima idea di come si fa le cose, ma semplicemente perché non si studiano queste cose, era palese, era venuta l'appuntento per far sesso, infatti poi dopo il secondo appuntento, non l'ho più rivista, perché avevo l'occasione e me la son persa, quindi nel momento in cui non conosce effettivamente, come si fanno le cose giuste con una ragazza, e proprio ci vogliono due secondi, per perdersi un'occasione, quindi vediamo che altri esempi mi sono segnato, quindi ha giusto una piccola cosa che mi viene in mente, che diverse volte tanti mi chiedono, ma trovi giusto che le ragazze non perdonino il fatto, che basta soltanto un errore per perderti l'occasione, per perderti una ragazza, sì, è giusto così, le ragazze non perdonano l'insicurezza, ed è giusto che sia così, le donne funzionano così, se si vuole avere risultati con le donne, bisogna capire come funzionano le donne, capire quello che hanno in testa, capire da cosa sono attratte, nel momento in cui dimostri appunto quello che è il contrario di sicurezza interiore, quindi quando dimostri insicurezza, le ragazze perdono l'interesse, insicurezza in diversi momenti di interazione, vedremo adesso tra poco, magari citiamo già adesso, la finestra temporale del bacio in un appuntamento, questo l'avevo proprio cronometrato una volta nel 2019, in un corso a via di sette giorni, uno studente che aveva fatto sei appuntenti in quei sette giorni di corso, con ragazze fino al giorno prima non conosceva, e in quei sei appuntenti, era diventato capace fino a parte di arrivare l'appuntento, poi l'appuntento faceva il contatto fisico, tutto quanto giusto, e poteva arrivare fino al bacio, quella ragazza e sempre poi se le perdeva sul bacio, e quindi sei appuntenti in sette giorni, voglio dire ogni giorno, facevamo un appuntento diverso, e quindi in sei appuntenti diversi, poteva arrivare al bacio, ci è arrivata poi forse alla fine con una, con l'ultima, che poi dopo effettivamente ha fatto gli errori su tutti quanti gli altri appuntenti, e dopo un po' che sempre vedevo la stessa cosa, ogni giorno io ho iniziato a cronometrare quanto tempo passava, da quando il bacio diventava possibile, a quando il bacio poi ormai era andato, però appunto esiste una cosiddetta finestra temporale, dove il bacio è possibile, dopo fai tutto quanto il contatto fisico corretto, in un appuntento, il bacio inizia a diventare possibile, quindi però nel momento in cui poi tempo regi troppo, perché ti cagli sotto, la ragazza lo vede, lo percepisce, lei lo sa che è pronta per essere baciata, lo vedi anche da diversi segnali, adesso non stiamo qua a citarli, però la ragazza lo sa che è il momento del bacio, e lo vede che ti stai cagando sotto, che stai pensando, che poi inizia a divagare con il discorso, tutte cose che ho fatto anch'io, ai tempi, e ti perdi l'occasione, e quindi dopo che passano quei circa dieci minuti, in cui la finestra temporale è aperta, la ragazza perde interesse, quindi perché appunto è dimostrato insicurezza, la ragazza inizia a guardare l'ora, inizia a sbadigliare, inizia a dire, ah domani devo sviarmi presto, a mettere scuse per far finire l'appuntamento, quindi questo è il modo per non bruciarsi, per esempio, gli appuntenti, saper fare contatto fisico correttamente, però se non si sa come si fanno le cose giuste con le ragazze, non c'è modo poi di cogliere effettivamente, al 100% di opportunità, anche studenti che hanno risultati, che già vanno letto magari con, magari una ragazza diversa al mese, poi si perdono, magari non lo sanno, si perdono magari altre tre ragazze con cui potrebbero andare a letto in un mese, semplicemente perché non hanno una comprensione totale e chiara di quella che è la psicologia femminile, figurarsi per chi è agli inizi e non conosce proprio niente di queste dinamiche, si perde una marea, una marea, una marea di occasioni, chiaramente, certe volte ci penso, nel 2019, l'anno in cui effettivamente ho iniziato ad andare a letto con anche diverse ragazze a settimana, e quando appunto io non esco, siccome so quello di cui sono capace ad oggi, c'è un'altra volta che ci penso, quando non esco dico, cazzo, se fossi in giro, chissà quante ragazze stanno passando fuori in giro per la strada, che in questo momento non sto approcciando, che magari in altre linee temporali, magari io sono uscito ad approcciarle, e magari ho una relazione con un'altra ragazza, magari sono andato a letto con un'altra ragazza, che non conoscerò mai, perché oggi non sono fuori sul campo a conoscere ragazze, quindi te ne rendi conto poi nel momento in cui inizi a sviluppare un minimo di capacità, perché sai quello di cui sei capace, e sai quello che ti perdi nel momento in cui rimani a casa e non esci, altre situazioni, altri esempi per far capire meglio, questo concetto appunto del fatto che ti perdi, che nel momento in cui ti perdi le occasioni, le ragazze poi perdono interesse, ti bruciano le possibilità, e mi ricordo una ragazza nel 2016, in realtà non è che me la ricorda, perché non l'ho segnato qua, mi sono segnato giusto alcuni esempi, perché se dovessi citare tutti gli esempi di ultimi anni, cioè verrebbe un video, non è uno scherzo, verrebbe un video di probabilmente 150 ore, 200 ore, ma non è uno scherzo, una ragazza nel 2016, che erano ancora a tempi in cui, ancora non è stato letto con nessuna ragazza, ai tempi, e la prima ragazza in cui è stato letto era poi a novembre del 2016, e questa ragazza qua era agosto del 2016, e ci avevo fatto un appuntamento istantaneo, tutto quanto il giorno, qualche ora, ci ero arrivato al bacio, comunque era già circa un anno che praticavo, quindi fino al bacio ero capace di arrivare, e mi mancava poi la parte dal bacio fino al sesso, e questa ragazza qua, poi io dovevo andare la sera a cena con dei miei amici, che anche loro si interessavano a dinamiche, miglioramento sentimentale, e quindi avevo detto a questa ragazza, no, che stasera, dopo la sera, eravamo tutta quanta giornata insieme, lei vuole andare un attimo a casa, a farsi una doccia, perché faceva caldo, era agosto, e mi aveva proposto lei proprio, ho detto, ci vado un attimo a casa, mi facciamo una doccia, però se vuoi poi dopo, io sono lì, ma ci possiamo vedere dopo, e questa ragazza, fra l'altro, era una turista, che stava qualche giorno, cosa vuoi che, cosa vuoi che significhi, un invito di questo tipo, lei sta qua qualche giorno, siamo già arrivati al bacio, mi invita per l'appuntamento dopo, cosa vuoi che significhi, ok, quindi era interessata, voleva far sesso, solo in quel momento, voleva andare un attimo a casa, per sistemarsi, e io però l'ho detto, no, facciamo un'altra volta, perché stasera sono cenerano dei miei amici, ma non è che era una roba vincolante, cioè potevo tranquillamente, dire ai miei amici che non c'ero, e varie eravamo in tanti, quindi non si sarebbe accorto nessuno, non era un impegno vincolante, però io non l'avevo capito, per i tempi, appunto nel momento in cui, non conosci queste cose, per me ad oggi sono ovvie come cose, però mi ricordo i tempi, non erano cose ovvie, altrimenti non mi sarei perso, tutta quanta una svalangata di occasioni, le occasioni te le perdi, i momenti in cui non comprendi effettivamente come funzionano le donne, e la loro psicologia, quindi poi con quella ragazza lì, in realtà involontariamente sono stato non bisognoso, infatti poi dopo l'è andata via da Milano, però è tornata a Milano, poi dopo tipo i tempi appunto vivo a Milano, è tornata poi a Milano tre settimane dopo, e la prima cosa fatta è stata scrivermi, ma semplicemente perché in quell'occasione sono stato non bisognoso inconsapevolmente, però in un'altra situazione, in realtà questa cosa crea alla ragazza che perde interesse, nella maggior parte dei casi ci sono stato fortunato, che poi effettivamente lei non ha perso interesse, che l'interesse sia rimasto vivo in quelle tre settimane in cui non ci siamo visti, perché in realtà con il rifiutare il suo invito, in realtà le ho dimostrato mancanza di intelligenza sociale, perché io realmente sul momento non avevo capito che questa ragazza era interessata a far sesso proprio più tardi, anche perché appunto ero inizi ancora, non avevo stato letto ai tempi con nessuna ragazza, anche poi per esempio in situazioni più avanzate, quando per esempio sei letto con una ragazza, se performi male la ragazza non ti vuole più rivedere, ti sei perso un'occasione, le ragazze poi di solito non danno seconde occasioni, quindi nel momento in cui ti perdi l'occasione di performare bene a letto, la ragazza si fa già un'idea di come performi a letto la prima volta che fate sesso, e se performi male di solito non c'è la seconda occasione, quindi bisogna accogliere bene, effettivamente è la prima occasione quando fai sesso con una ragazza, ne cito un altro esempio di come il perdersi un'occasione per mancanza di sicurezza interiore, o quantomeno questo è quello che aveva percepito la ragazza in questione, era svariati anni fa, ancora i tempi in cui lavoravo, avevo un lavoro normale da dipendente, e ero uscito da lavoro, vivo a Milano ai tempi, ero andato in Piazza Duomo a fare un po' di approcci, avevo conosciuto questa ragazza qua, è molto 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 bella, veramente una roba assurda, e che lei stava andando in realtà a incontrare delle sue amiche, per andare poi la sera a cena con delle amiche, e però l'interazione sta andando molto molto bene, mi ha proprio proposto lei a un certo punto, mi ha detto, guarda se vuoi, dico le mie amiche che non ci sono, e andiamo a bevarci qualcosa, quindi sono scenari che di solito non capitano, e però comunque in realtà, ho anche diverse registrazioni di miei approcci, effettivamente sono state le ragazze a invitarmi, però non è la regola, ok? però di tutte le volte capita, e quindi in realtà ho detto ok, e solo che il problema era tanti anni fa, che andavo in giro soltanto con contanti, non avevo carte, pagavo sempre con i contanti, ad oggi pago sempre con la carta, per questioni di comodità, e i tempi avevo tipo, mi ricordo, 20 euro nel portafoglio, erano tempi antichi, e però non avevo abbastanza soldi, per fare un aperitivo in quel momento, non perché non ce ne avessi, non ce ne avevo in quel momento nel portafoglio, abbastanza soldi, e forse avevo tipo, 22 anni mi sembra, mi sembra avevo tipo 22 anni, ai tempi di questa ragazza, e quindi c'era un mio amico, che era lì in zona, e l'ho chiamato al telefono, questa era una ragazza che parlava inglese, viveva a Milano però, non era una ragazza italiana, parlava inglese, e ho chiamato un attimo un mio amico al telefono, perché appunto questa ragazza qua, intanto ho chiamato le sue amiche al telefono, per dirgli che non c'era, io intanto ho chiamato il mio amico, ho fatto finta che anche io avevo un impegno da cancellare, e ho detto questo mio amico era lì in zona, e ho detto in qualche modo passami dei soldi, perché sì avevo 20 euro, magari un aperitivo, magari 10 euro a testa, magari riuscivo lo stesso a sfangarla, però non potevo andare lì a rischiare, che poi non avevo i soldi, per pagare l'aperitivo scenari di questo tipo, e a pensarci oggi, ma che cazzo facevo in passato, e quindi in quella chiamata, lì ho fatto un attimo al telefono, per dire a questo mio amico, di trovare un modo per passare i miei soldi, e ero lì di fianco alla ragazza, lei non parlava italiano, però comunque mi sono staccato di qualche metro, appena ho chiuso la telefonata, la ragazza ha detto, ma guarda forse è meglio che vado a dare le mie amiche, così da super interessata, improvvisamente interesse totalmente sceso, ma non perché ricordo questa ragazza non parlava italiano, semplicemente ha percepito insicurezza interiore, è un po' come se per noi uomini, una ragazza improvvisamente diventasse brutta, siccome noi uomini, una delle cose principali e più immediate che guardiamo in una donna, è la parte fisica estetica, e poi dopo successivamente le caratteristiche comportamentali, per una donna funziona diversamente, che ti valuta principalmente sulla base delle caratteristiche comportamentali, quindi una ragazza può essere interessata e poi perdere interesse, e questa cosa sfugge poi alla comprensione dell'uomo, perché l'uomo di solito è interessato, non perde interesse così magicamente, istantaneamente da un secondo all'altro, quindi è un po' come se per noi uomini, una donna improvvisamente diventasse brutta e perdessimo interesse, quindi questo è quello che succede dalla prospettiva femminile, secondo me questo esempio rende bene il concetto dell'interesse delle donne, e poter citarne tanti altri, qui ne sono scritti anche altri, però magari ne taglio qualcuno, per se non poi diventa un video lunghissimo, uno studente in un corso a Vio nel 2021, che questa ragazza qua, era venuta dall'appuntamento, una ragazza che non viveva a Milano, il corso a Vio si svolgeva a Milano, neanche lo studente era di Milano, appunto il corso a Vio si svolgeva a Milano, questa ragazza sarebbe ripartita il giorno dopo, però appunto non viveva lì, è venuta ad un appuntamento la sera, con lo studente nonostante partire il giorno dopo, è venuta ad un appuntamento, super vestito elegante, o tutto aveva un vestito, era l'estate, un vestito anche molto corto, dove si vedevano le mutande, cioè aveva un vestito pieno trasparente, dove si vedevano le mutande, magari lo studente non lo notava, però io che li guardavo da distanza, lo vedevo questa cosa, e che altro era? Ok, questa qua, erano due dettagli importanti, la cosa che partiva il giorno dopo, è che è il vestito super elegante, e poi durante la conversazione nell'appuntamento, questa ragazza gli ha anche detto, che non è una da relazione, che non ha mai avuto una relazione serie. Ora, mettendo insieme questi tre indizi, che è venuto l'appuntamento, nonostante parte il giorno dopo, il vestito super elegante, eccetera, e la cosa che non ha mai avuto una relazione serie, cosa minchia vuoi che sia venuta a fare l'appuntamento, però lo studente non ha capito questi segnali, eccetera, perché appunto non si comprende bene la psicologia femminile, e si è perso l'occasione, ok? Quindi, ci si, ovviamente, nel momento in cui non si capisce la psicologia femminile, ci si perde una marea di occasioni, infatti, una delle cose appunto, che se vai sulla pagina con le informazioni, del videocorso traduttore donna uomo, ho fatto proprio scrivere al mio team, moltiplica i tuoi risultati con le donne, perché non è che li moltiplichi magicamente, li moltiplichi tramite il non perderti, tutta quanta, una serie di situazioni, che hai già, che vivi già, però te le perdi, perché non le sai cogliere al massimo, e quindi, nel momento in cui impari a cogliere al massimo, si moltiplicano automaticamente i risultati, quindi puoi imparare tutto questo, all'interno del videocorso, traduttore donna uomo, ti ricordo è stato riaperto dal 23 al 30 marzo 2022, ed è acquistabile a un prezzo più basso, appunto, fino al 30 marzo 2022, ovvero il giorno in cui uscirà questo video, dopo il 30 marzo 2022, il corso rimane comunque aperto, però semplicemente aumenta il prezzo, per chi ha già acquistato in passato, almeno uno degli altri miei videocorsi, si può acquistare traduttore donna uomo, a 100 euro in meno, rispetto al prezzo ufficiale, tutte le info sono sul sito, www.approcciala.it, primo link in descrizione, per chi avesse domande, dubbi, non so se questo corso è adatto per se stesso, c'è un numero di telefono gratuito, in descrizione, che si può chiamare, per parlare a voce con una persona esperta del mio team, fra tutte le domande che ti servono, o se no, sempre in descrizione, c'è anche il contatto whatsapp, per parlare via messaggio, con una persona esperta del mio team, detto ciò, ci vediamo al prossimo video, a presto, Grazie a tutti.